Berlusconi, i mondiali a Mediaset saranno una grande cosa ma anche una grande responsabilità? Ovviamente avere i mondiali è una cosa che ci inorgoglisce, ci dà anche una grandissima responsabilità, siamo però convinti che la nostra redazione sportiva, che ha grande esperienza, farà un ottimo lavoro. Poi faremo dei mondiali come non si sono mai visti, tutte e tutte le partite in diretta, per la prima volta tutte gratuite, visibili in televisione e su tutti i device, pc, tablet, smartphone, veramente ovunque, una copertura mai vista. E non mancheranno anche momenti di grande spettacolo? Sì, questo fa parte del DNA di Mediaset, proveremo a fare dei mondiali allegri, brillanti e faremo anche una commistione tra giornalismo sportivo e spettacolo. In particolare ci sarà su Canale 5, dopo le partite in prime time, Bala Laika, che è uno spettacolo legato ai mondiali con Ilari Blasi, Nicola Savino, la Jalappas e tanti altri che speriamo il nostro pubblico apprezzi e che si possa divertire.